Discuto ancora sull'estensione del Green Pass, in settimane è atteso un incontro a Roma con voi governatori, giusto? Sì, no, penso che il discorso, io faccio sempre un discorso di fondo, primo pensiamo a vaccinarci, perché se ci vacciniamo tutti il discorso del Green Pass diventa inutile, secondo in regione Lombardia la percentuale dei vaccinati è molto alta, quindi è un problema che ci riguarda, ma un po' meno che in altre regioni. E terzo, è chiaro che dovranno essere fatte delle valutazioni, si dovrà tenere conto di una certa gradualità, ci sono delle categorie per le quali è più necessario, altre meno, e tutto dipenderà anche dall'evoluzione che ci sarà del virus sul territorio, sui singoli territori. Credo che con calma tutti i problemi possano essere risolti.